Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Pesaro ha eseguito un'ampia attività sul versamento della cosiddetta tassa di soggiorno per il periodo che va dal 2012 al 2018 da parte di alcune società che hanno gestito delle strutture alberghiere nel comune di Pesaro. Le attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica si sono svolte confrontando le dichiarazioni trimestrali presentate dai gestori e il versamento da loro effettuato al comune di Pesaro. Dagli accertamenti è emerso che dieci soggetti economici, nove società e una ditta individuale hanno sistematicamente omesso il versamento della tassa di soggiorno relativa a 17 hotel per un ammontare di circa 300 mila euro. Quindi i gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria perché essendo designati alla riscossione del tributo rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e per tale motivo le loro condotte hanno integrato la fattispecie di reato di peculato. Inoltre nei confronti di tre soggetti denunciati che non avevano proposto alcun piano di rientro del debito tributario nei confronti del comune di Pesaro è stata avanzata dal pubblico ministero la richiesta del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Accogliendo la proposta il Tribunale ha emesso due decreti di sequestro per l'ammontare complessivo di 115 mila euro. Le persone indagate sono state rinviate a giudizio ed è stata inoltrata una segnalazione anche alla procura regionale della Corte dei Conti di Ancona visto il danno all'erario di 170 mila euro pari all'imposta non versata nei confronti del comune. Sono già intervenute alcune sentenze di condanna in primo grado e per alcune posizioni è già stata fissata l'audienza.